iniziamo siediti a gambe ben divaricate mani a terra e piano piano spostale sempre più lontano cerca di appoggiare i gommetti a terra testa giù e respira ancora 10 secondi 5 secondi 3 2 1 ok ora ricerca con le mani il piede sinistro abbandona il corpo sulla gamba tesa e resta in posizione respira ancora 12 secondi 8 secondi 3 2 1 ora piano piano ricerca con la mano il piede destro afferra la punta del piede con le mani abbandona il corpo verso la gamba tesa e resta in posizione ancora 10 secondi siamo a 5 secondi siamo a 3 2 1 ok ora passa a gambe incrociate ora incrocia le dita stendi braccia in alto allunghiamo tutta la schiena quindi schiena dritta e respira pensa di voler spingere le mani al soffitto 3 2 1 recupera ora ci posizioniamo schiena a terra 3 2 1 porta un ginocchio al petto l'altra gamba resta tesa in appoggio schiena ben aderente al tappetino e respira 3 2 1 cambia gamba ora traziona al petto l'altro ginocchio mentre la schiena resta sempre ben appoggiata a terra ancora 10 secondi e cambiamo siamo a 5 secondi 3 2 1 ok ora afferra entrambe le ginocchia trazionale al petto collo rilassato e respira 3 2 1 ora lascia la presa sulle ginocchia e dolcemente avvicina le ginocchia a terra prima da un lato e poi dall'altro la mano accompagna il movimento ginocchia unite e respira 3 2 1 ora incrocia le gambe e scendi lateralmente il ginocchio tocca a terra e il braccio opposto alla torsione è aperto lateralmente 3 2 1 piano piano cambia incrocio ancora le gambe scendono lateralmente il ginocchio tocca a terra e il braccio opposto alla torsione è aperto lateralmente rilassati e respira siamo a 10 secondi siamo a 5 secondi siamo a 3 2 1 ok scioglie la posizione ci giriamo piano piano ora ginocchia unite e espirando avvicino al petto le cosce lascia cadere le spalle braccia lungo i fianchi e mani ai lati dei piedi fronte in appoggio a terra occhi chiusi e respira 3 2 1 ok piano piano risali benissimo il tuo allenamento è terminato ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie